Siamo a Castiglioni, nel cuore del Chianti, un'azienda storica di proprietà della famiglia Frescobalvi. Proprio da questa azienda che 700 anni fa la famiglia cominciò la produzione veti vinicola, fino a diventare la realtà che è adesso. Oggigiorno l'azienda coltiva 1.300 ettari di vigna nelle migliori denominazioni della Toscana. La tenuta di Castiglioni è una di queste realtà. È costituita da un territorio molto vario, da terreni molto diversi tra loro. Tra questi terreni franco-argillosi, arenarie, scisti, terreni alluvionali molto profondi con ciottoli marini. Lavorare nei pendii in Toscana può suscitare delle insidie. Soprattutto nei periodi primaverili, umidi, si assiste a dei fenomeni di slittamento, una perdita di trazione e a dei fenomeni di compattamento delle impronte nel suolo che possono essere anche importanti. Abbiamo introdotto un cantiere di lavoro con degli pneumatici a bassa pressione. Questo ci permette di avere una maggiore impronta del suolo, quindi una migliore trazione e dei minori consumi di carburante. Tutto ciò si riferente in un cantiere più efficiente, con meno compattamento del suolo e con una migliore fisiologia delle nostre piante. New Holland, leader mondiale nella produzione dei trattori specializzati, è sempre attenta alla ricerca e lo sviluppo. Per dare risposta alla crescente richiesta di riduzione del calpestamento a terra, abbiamo equipaggiato alcune unità con dei nuovi pneumatici a bassa pressione. Dalle prove che stiamo conducendo in questo periodo, abbiamo rilevato un'aumentata trazione e stabilità in tutte le condizioni di pendenza tipiche del territorio italiano e soprattutto una riduzione del calpestamento a terra, dell'impronta in tutte le condizioni di terreno, anche quelle più tenaci, più bagnate, tipiche di questa stagione piovosa 2018. Una delle caratteristiche tecniche più rilevanti del Pneutra è sicuramente la sua struttura, una struttura che anche dal punto di vista visivo appare subito. Mancando aria all'interno del pneumatico, nel senso avendo un volume ridotto, compensa questa mancanza con una struttura più importante che sostiene il peso, conferendo la giusta stabilità e rigidezza alla struttura e nello stesso tempo permettendo delle pressioni di utilizzo più basse. In particolare, per quanto riguarda il battito strada, abbiamo implementato la tecnologia Progressive Traction che contraddistingue tutti i nuovi prodotti Trelleborg degli ultimi recenti anni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!